Buonasera, buonasera, queste che mele sono? Queste sono mele a noce. Tutte mele a noce. Questa è la colterna e quella è la limoncetta. Tutte coltivate nella valle di Pagliari. Noci e castagne. Le castagne vengono da Cervinara, qua vicino sempre. Sono bellissime. Queste sono quelle grandi, sono i fioroni questi. Magnifici.